Un Sampdoria-Napoli 0-0, grandi parate di Zoff, era la sua centesima partita consecutiva con il Napoli. Lei disse, Napoli è azzurro e oro e ha cambiato anche il mio modo di pensare come città e la gente mi ha fatto modificare anche il carattere, insomma, sono diventato più solare come persona a Napoli. Beh, solare forse no, più aperto un po'. Più aperto, vabbè. Vedi, vedi. Bruno e io non avremmo mai detto l'aggettivo solare a Zoff, perché lo sapevamo. Cartellino giallo, cartellino giallo, va bene. Un po' più aperto. Ma che bella questa. Ecco, ci distrae... beh, questa, vabbè. Questa no, quella di prima non era. Eh, quella di prima no. Col cappellino, eh. E' una delle poche dove ha cappellino. Scuffette. Beh, i guanti? E non c'erano quel periodo. O almeno c'erano ancora quelli del 38, che erano quei puntini di gomma e che con i nuovi palloni non si tenevano proprio.